Avrebbe maltrattato la convivente e di figli sottoponendoli a continue violenze fisiche e psicologiche in modo da cagionargli volontariamente sofferenze fisiche e morali. E' questa l'accusa per la quale questa mattina i carabinieri di Manfredonia hanno tratto in arresto un 42enne pregiudicato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Foggia. A seguito delle indagini si è scoperto che fin dall'inizio della relazione coniugale l'uomo era spesso causa di litigi con la moglie per futili motivi durante i quali la colpiva con calci, pugni e schiaffi e la insultava con espressioni denigratorie. Stessa condotta veniva posta in essere nei confronti dei figli il tutto aggravato dall'aver compiuto i fatti in presenza dei minori. L'uomo minacciava e molestava da tempo la oramai ex compagna in modo da procurarle un perdurante stato di ansia oltre che il timore per la propria incolumità personale al punto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. Sono diversi i referti medici presentati dalla donna costretta in più circostanze a ricorrere alle cure sanitarie a seguito degli atti di violenza. L'uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Foggia a disposizione dell'autorità giudiziaria.